Eccoci qua signori Big Luca da Dubai, dalla sua stabile maggiore di residenza Emirati Arabi Uniti. Come andiamo? Io mi sono praticamente appena alzato, sono le 4.05 del pomeriggio. Come andiamo? Tutto bene in questo sabato? Cosa siete? In piscina? Finalmente dopo il lockdown siete in piscina, io vi faccio questo live qui dove rispondo a qualche domanda che c'è arrivata su Info Marketing per Babuini e Done For You, quindi alcuni dubbi, alcune domande, alcune incertezze che persone che fanno Done For You hanno e poi dovrò andare perché devo andare a un aperitivo. Qui c'è il giardiniere che continua a rompere i coglioni, stanno potando la siepe, stanno ripotando la siepe. Come andiamo signori? Allora consigli di partire col tuo corso o quello di Dan? Ma puoi fare prima quello di Dan e poi puoi guardare il mio. Che figa come cosa, perché io vado diciamo a... non è integra, in realtà puoi fare prima uno poi lato. Fai quello di Dan che è figo e poi guardi la mia come versione finale perché la versione più fedele per il mercato italiano è la mia per quello fatto il corso, quindi se guardi dopo quella di Dan potresti pensare che alcune cose vadano bene mentre invece le ho modificate e declinate meglio nel mio intervento. Allora signori, Done For You. Alcune persone ci hanno chiesto se il corso va bene per chi fa Done For You. Ragazzi sì, è esattamente il corso per voi, per una serie di motivi. Allora che cos'è il Done For You? Perché se noi continuiamo ad appiccicare il label ed etichette a ciò che facciamo continuiamo a non capirci niente, ok? È come posizionamento, cioè non vuol dire più niente, ok? Allora, prima cosa, il corso include un'ampissima parte sul vero posizionamento, cioè come uscire a mercato in un modo che ci fa fare più soldi possibili. Purtroppo ad oggi la tematica del posizionamento è forse la malattia peggiore di cui affetta l'Italia, cioè ci sono tutta una serie di tecniche sbagliate che sono sbagliate perché innanzitutto non vi fanno guadagnare ma perché vi fanno apparire ridicoli, perché si basano, ciao Stunello, su presupposti ridicoli e quindi se voi non sapete come uscire al mercato, come comunicare, che fascia aggredire, come posizionarvi, come presentarvi, come creare una reputazione che può farvi vendere a... non è giusto dire ad alto prezzo, questa è la seconda cosa che vi devo dire, voi perirete, quindi se vi affidate alla comune conoscenza, alla comune moda di adesso del mercato italiano di dire che siete i migliori, di dire che siete i primi, nel dire che siete i più grossi e tutti gli altri non vanno bene, che è ciò che stanno facendo tutti i ragazzi, che hanno malinterpretato certe cose, non importa che voi vendiate Done For You Network Marketing, quelli poi hanno il problema peggiore perché vabbè, oltretutto se fate Done For You e avete tra i vostri servizi di erogazione dei servizi di marketing, innanzitutto il corso Info Marketing per Babuini vi dà un cosa vendere, ok? Il fare il Done For You, il funnel, le campagne, eccetera, è ad oggi una delle cose più profettevoli perché ovviamente c'è molta domanda, c'è molta domanda di persone che possano portare online delle attività offline, per esempio, c'è molta domanda di persone che possano fare l'e-generation e guidare traffico, c'è molta domanda di persone che possano curare in qualche modo il brand aziendale e come diavolo lo curate se non siete capaci voi? Fatevi questa domanda. A che prezzo uscire? Ok, se non capite la nuova price strategy che c'è dietro i servizi, i software, anche i prodotti o i prodotti digitali, continuerete a monetizzare poco e vi troverete con dei problemi infiniti di longevità. Non è un caso che le cose funzionino per qualche mese e poi di massima smettono di funzionare. Quindi questo corso ha lo scopo di farvi capire come adottare una price strategy che vada bene per il lungo periodo perché nessuno di voi la sta facendo. Chi ha fatto accesso al corso potrà confermarlo. Non vi dico più, e ho sbagliato a dirvi dall'inizio, a suggerirvi dei prezzi. Questo corso spiega la price strategy completa. Ragazzi, price strategy non è uno di quei termini che adesso voi domani potete usare impunemente. Io so già che da domani price strategy sarà la hot keyword. Voi non dovete scrivere price strategy. Voi dovete saperla la price strategy. Perciò lasciate perdere le cagate. Prendete il corso e guardate veramente come a voi uscire a mercato e monetizzare con il giusto prezzo la fascia, le fasce di clienti che andate ad aggredire e anche poi che prezzi, per quello che si applica bene per il Dan4You, far fare ai clienti perché molti di voi curano i lanci delle persone, brand delle persone. Moltissimi sono nel campo dei servizi e delle informazioni. Se voi non sapete che prezzo fare a loro e se non sapete che prezzo dire a loro di fare, cioè avete il problema dalle due parti, questo è uno dei problemi con il Dan4You, ok? E' anche uno dei problemi perché in qualche modo è nel mio stesso ambiente, no? Tutti i vari consulenti che studiano da me, se non sapete voi che prezzo fare alla gente poi nella vostra divulgazione, nei vostri insegnamenti, non sapete voi che prezzo far fare agli altri prima o dopo non funziona, anche perché il prezzo non c'è. Quindi mentre prima il prezzo era posizionante, adesso siamo passati a fare tutti ti copiano big ma si mordono la propria coda, eh sì. Quindi questo è importante. Poi qualunque persona, questo, e lo so che finiscono in promozioni Giovanni, ci stiamo lavorando, ha cambiato qualcosa a Weber perché sta capitando a tutti quelli che usano a Weber. Quindi adesso stiamo vedendo di usare un altro autorisponditore o di fare un altro risponditore interno a Katanga. Comunque spam non credo proprio, arrivano in promozione. Un'altra cosa interessante è che in infomarketing per Babuini ho inserito per tutti cosa fare a Black Friday, cosa fare a Natale, come sfruttare le promozioni. Le promozioni le farete tutti. Al posto al Black Friday, adesso c'è sta moda di vantarsi di non fare un'offerta al Black Friday. Purtroppo noi viviamo in un mondo che è difficile, capisco, però lasciate perdere quello che dicono là fuori e le cazzate. Voi pensate ad avere un'azienda, una cosa che monetizzi, va bene? Quindi l'offerta sì, l'offerta no, lo sconto sì, lo sconto no, lo sconto mascherato, il lancio, il lancio contro lancio, tutte ste robe qui sono spiegate all'interno di infomarketing per Babuini. Che poi voi al Black Friday facciate il lancio di un corso, di un servizio, di un servizio done for you o un'offerta su un prodotto, non cambia assolutamente niente. Dovete capire se farla, come farla, a che prezzo, quindi con che prezzo, arriverete al prezzo dopo che saprete la price strategy, ve lo dico prima, non c'è il prezzo nel corso, perché non ci può essere? perché chi siete, se vendete done for you, ti costruisco la casa, evidentemente sarà diverso da un fitness coach, va bene? Quindi tutte queste cose qua sono spiegate molto molto bene su Infomarketing per Babuini. Poi, altra cosa del done for you, con il done for you voi di solito avete dei margini che sono bassissimi, va bene? Dopo l'offerta probabilmente viene alzato e vengono tolti i bonus, quindi l'offerta perde di potenza dell'80%, è comunque stupenda, ma adesso ci sono i bonus, tutti i bonus. Ragazzi, il done for you, i contratti legali, vi va bene, finché vi va bene quando gli fate i funnel, le robe, ma il done for you anche di tutto, anche fuori dall'ambiente marketing. Cosa succede? Se succede qualcosa dovete avere i contratti legali che siano a prova di bomba. Perché? Perché a quel punto è colpa vostra. Le persone non si immedesimano in queste differenze. Un corso digitale è un corso digitale. Vendere un paio di scarpe, vendere un paio di scarpe, dire io ti faccio una cosa è al che la responsabilità è dura fargli digerire che non è vostra. Ci sono sicuramente dei casi in cui è così. Voi potete curare il copy di qualcosa, ma se poi questa cosa non va, di chi è la colpa e di chi ha fatto la strategia di marketing, allora se vendete copy avete detto che il copy è il marketing, il marketing è colpabile, eccetera, 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 eccetera. Non so se capiamo le criticità. Quindi dovete avere i contratti a prova di bomba e dovete capire come andare ad offrire dei servizi che non vi cannibalizzano il tempo e vi fanno marginare. Nella mia esperienza 85-90% delle agency done for you hanno tanto capitale circolante ma non gli rimane attaccato niente, perché ora che hai finito di pagare tutti, ora che ti sei sovraesposto a livello di tempo perché tu pensavi che il progetto A che hai calcolato alla cazzo ti facesse guadagnare X, adesso invece è A più 3 settimane perché devi risolvere i casini causati da lui, causati dal team, causati da voi, ecco che non avete guadagnato ma non ve ne rendete conto perché non sapete come matematicamente fare una price strategy. Ripeto ragazzi, price strategy non è come la parola strategico, che adesso tutti usano la parola strategica, perché hanno capito, loro non hanno ben compreso, usano la parola strategico, tutti strategici, ok, allora facciamo veramente gli strateghi una volta tanto. Quindi se fate done for you, copywriting, funnel, campagne, tutti quelli che fanno social media marketing agency, a quanto lo vendete il vostro servizio? Lo vendete al prezzo di tutti gli altri perché tutti gli altri copiano tutti gli altri e voi dite che siete i migliori? E come li trovate i clienti? Quale fascia aggredite? Come vi posizionate? Tutte queste robe qua ragazzi non le trovate gratis su YouTube, ve lo dico prima, potete andare a controllare perché se funzionasse evidentemente tutti recensirebbero YouTube e direbbero wow con tutti i video gratis di YouTube, non succede, ci vuole qualcuno che impacchettizzi delle informazioni che siano provate nel tempo e abbiano un track record di funzionare. Mediamente queste robe qui ragazzi le dovrete pagare, abituatevi anche a questa cosa. Perciò in campana con quello che fate. Se fate done for you di qualunque cosa, done for you potrebbe anche essere tranquillamente un agente immobiliare in America che si occupa di riscuotere l'affitto dai tenants, di gestire la casa, perché done for you non è solo ti faccio un funnel, è mi occupo per te di una certa cosa. E questa roba qua come la vendiamo e a che prezzo e quali criticità ci sono e quali upsell e crosssell facciamo? Perché poi non c'è da stupirsi se uno faccia un prezzo alla cazzo di un servizio e monetizzi solo il 20-30% di quello che potrebbe. Ad oggi ve lo dico prima, le informazioni e i servizi sono il modo secondo me sovrano per partire da zero, per partire con la cifra più piccola di soldi richiesta, potreste in teoria partire con zero. Non potete fare paid ads, tutti i tools devono essere gratis, sarete in una condizione, però in qualche modo il vendere una propria consulenza, proprio o di un altro, questo lasciamolo perdere, è un modo per poter cominciare da zero sotto zero, quasi zero. Non che è facile i soldi, però è obiettivamente i costi di gestione per operare una cosa del genere, cioè tu mi scrivi su Facebook, puoi fare un funnel? Sì mandami 500 euro, te lo faccio, ho fatto 500 euro senza particolari costi, che non sarà così e sono tutti esempi ragazzi, io apro un canale di YouTube, metto a vendere con YouTube, c'è un link, a parte il mio tempo, ok, non devo spendere tanto, quindi non dovrete massacrarvi di paid ads come per esempio in un low ticket dove avete margini bassi e quindi dovete spingere a bomba sul traffico. Ad oggi le informazioni e i servizi, è l'unico business dove io vedo ROI del 500%, del 700%, del 2000%, ok, che non richiedono uno scale up per esempio del traffico così massivo come in altri business, ed è ciò che crea i margini, ok, perciò i servizi, informazioni sono la cosa migliore per creare i margini, il problema è che se fate le robe sbagliate è problematico, ricordatevi una roba, ci penso a voi, c'è due anni fa ragazzi, due anni e mezzo fa, la promozione online di servizi, informazioni, coaching, agency, c'è chi cazzo c'era? Non c'era assolutamente nessuno, adesso cominciate ad essere in tanti, perciò o capite veramente come lavorare, che non è solo differenziarsi per differenza con la unique selling proposition ragazzi, molti di voi hanno raggiunto un livello che ormai è penoso, cioè non funziona più quella roba lì, va bene? Perciò, l'ho lanciato a fine mese perché l'abbiamo lanciato adesso, siamo organizzati per il 10 giugno, peraltro a giugno, guardate i problemi che ci sono in questa industria, io quando ho detto che lanciavo, per farvi capire, così capite, io quando ho detto che lanciavo a giugno, il primo maggio, l'unico che ha annunciato un lancio 40 giorni prima, fate il conto di quante persone stanno lanciando a giugno, sapete perché stanno lanciando a giugno? Perché io lanco a giugno, non c'è altro modo, perché è una minima cognizione, farebbe capire che non possiamo lanciare tutti a giugno, si lancia ognuno per conto suo, benché i pubblici siano diversi, adesso tutti che si stanno rincorrendo per giugno, perché? Perché Big ha lanciato giugno, ah cazzo, ecco, eh ma certo, è giugno, è l'altra volta lanciato a Mars, ma vedi che il Big ha lanciato, si lancia giugno, ragazzi io lo dico per il vostro conto in banca, il mio sta abbastanza a posto, non si può più fare questa roba qui, cioè io lo so che è pesante da sentirselo dire, però io non sono qui a coccolarvi, per chi ha conoscenza, anche tecnico, molti di Dunford sono tecnici, lo so ragazzi che voi patite alcune, vabbè studiate da me, imparate e lucrate anche voi, perché purtroppo non c'è soluzione, se non capite l'aspetto strategico del marketing, voi non andate da nessuna parte, quella roba lì di dire che siete professionali, etici, no, però io non è che sto in piscina, è andata, è una battaglia persa, perciò studiate e lucrate, ok, anche i competitor studiano da me, anche i competitor tra di loro, va tutto bene, però mentre due anni fa, due anni e mezzo fa le supercazzole si potevano dire, adesso no, ma dico io, ti credi qualcuno con un corso di nome babbuino? Sì, perché le persone intelligenti non si fermano al nome, guardano il contenuto Riccardo, non c'entra niente il nome, lo scemo dice, ah si chiama così, allora, ah io sono troppo superiore, babbuini, ma sarà una cazzata? Una persona intelligente va a vedersi le testimonianze, che sono infinite, gli screenshot, i risultati, i video, e va a vedere che sono l'unico partner ufficiale di Dan Kennedy per il marketing, guarda che i leader di mercato studiano da me e mi recensiscono, e poi prendono il corso, non è che si fermano, quello è uno scemo, no? E poi non c'è niente, la regola è che si lancia il 10, nel social media marketing agency consiglia di avere un prezzo fisso per lo stesso servizio oppure variare in base al cliente che si ha davanti, a Nena per esempio, c'è un'intera lezione che si spiega questo, grande Riccardo, adesso babbuinizzati, grande, grande Riccardo, ma io non rispondevo solo a te, io rispondo a tutta una serie di illazioni, a volte devo rispondere in modo generale, è inutile, il big fight gli altri copiano malissimo, no ma non è il fatto di perché a me copiare va anche bene, non è copiare, è copiare senza capire che mi dà fastidio, ok? Cioè è Warren Buffett ha comprato quello stock, allora anch'io lo comba, no cazzo capisci la logica, se non la capisci non farlo, ok? Annina è ormai è troppo complicato a spiegarti in un live, devi prendere un, è esatto, il corso tratta di tutte queste cose, è un corso infinito, fidati che non ci rimani male, non ho mai, guarda con i corsi digitali non ho mai, ci sono gli haters in due nazioni, io mi ricordo in America mi venivano addosso, ma comunque non si, quando parlavo perché Big Luke è un coglione che fa i corsi che comunque sono di alta qualità effettivamente, cioè mi si può imputare tante cose e di vendere aria, no, quindi ho creato un servizio da affiancare a un prodotto di network, non posso scrivere molte info, ma vorrei sapere se è possibile vendere al 40% in più lo stesso pubblico, meglio rettificare, Antonio il corso ti aiuta in questo, davvero tutti questi dubbi vengono risolti, pagate l'infomarketing per Babuini, il mio lavoro deve essere remunerato, ragazzi potrei vendervelo a 10.000 euro, facciamo una roba congrua, mi interesserebbe molto il discorso sul fatto che la società odierna perverso e piace mettere in dubbio, cosa è ovvio se vuoi, si farò un video Domenico, non mi sta deludendo affatto, domanda quando hai dei servizi sanitari come io faccio prestazioni domicili o comunicazioni, li metto tutti in vista, uno e il resto in backhand, per esempio Giorgio, le risposte saranno nel corso, allora Bigman ci sono ulteriori promo per diventare Babuini, no, chiamate l'800 303 666 ragazzi, davvero per chi ha dubbi, se non capite il perché e il per come è legittimo, però chiamate, non fatevi sfuggire l'occasione, perché con una piccola cifra potreste guadagnare una cifra che è per cento, perché in qualche modo uscirete a mercato e farete dei prezzi, non è che se non vendete corsi non fai, voi uscite a mercato, fate dei prezzi, avete un backhand, avete un fronthand, comunicate in qualche modo e il corso esattamente vi spiega come monetizzare al massimo e spremere tutto lo spremibile in un modo longevo. Big, mentre sto ascoltando la tua diretta ho fatto la seconda vendita, bene, bene. Venga, vendere aria high ticket, vendere aria high ticket non funzica, c'è chi ci riesce a tutta la mia stima e però io non ho quel pelo sullo stomaco, ci sono persone che anni che vendono cose che non fanno, tu pensa al campo dell'affiliate marketing, ho detto tutto, io non ci riuscirei, sono sincero, è un mio limite, io non parlerei da dieci anni, da otto anni di affiliate marketing non avendo mezzo risultato, fate conto che in Italia, a parte Tinder, sono tutti conciati così, io non ci riuscirei, è un mio limite, io domani non riesco farti un corso su una cosa che io non so, la perfezione per la quale non ho risultati dimostrare, è un mio limite, però purtroppo funzionerà così anche per voi, se poi siete dei figli di P con un pelo sullo stomaco oppure addirittura con un'ignoranza che non capite neanche voi che non ne capite, però non avrete dei grandi risultati, perché in realtà ci stiamo muovendo sempre verso la competenza, perché il mercato risolve le delusioni, prima si poteva, adesso non si può più, grande Gabriele, sì Steven, ma li abbattiamo, ottimo, per quel cazzo di voi sono da 10 euro solo quelli, perché avevano fatto pagare 500 e fa pure schifo, eh vedete Giorgio per 500 euro si è fatto fare un contratto e fa schifo, sì, allora il mio legale è esattamente il suo pane quotidiano, primo perché il legale lavora con la Big Luca International da due anni ormai, quindi si è occupato di tutti i nostri contratti, tutte le nostre magagne, ha visto tutti i clienti, le criticità, il cliente è coglione e quello che è pazzo e l'altro che non gli va bene, il rimborso e non rimborso e le robe internazionali e la società e chi rimborsa, chi, perché, in che modo, insomma e soprattutto si intendono, perché il problema non è il contratto, perché se tu vai da un avvocato il contratto te lo fa, ma non capiscono il modello di business, è come, cioè se tu è un commercialista normale o un CFO normale, magari ti dicono di ridurre i costi dei Facebook ads, ma non capiscono che il business dipende da quelli per generare traffico, per dire, che non capiscono il modello, Big ti manderei più a Medeo, bene mandami, lo so bene chi solo, tuoi compagni di scuola, va bene? Quindi done for you è per voi assolutamente, pacchetti, quali pacchetti, come pacchettizzare e depacchettizzare, non vi dico altro che un po' anche la criticità del modello Ovens, prendete il corso ragazzi, mi ringrazierete, se no poi pubblicamente dite che il corso fa schifo, cioè siamo tutti attaccabili da questo punto di vista, non è mai successo, perché va bene tutto, ma certe cose no. Quindi infomarketing per Babuini, 1200 euro, cioè l'intervento di Dave Dea Ricciona, ragazzi con il webinar ci stanno vendendo pure l'arredamento per la casa, perciò uno dice il webinar, cosa c'entro io qui? Il webinar cazzo può vendere una prestazione professionale? Giusto, lui non ha capito il contesto, esatto Giorgio, perché il contratto va anche bene, però io almeno, ma anche con le banche, sono anche banche che non capiscono il business online, fanno fatica, a me fa sempre un sacco di domande, io l'ultima banca, una del mio conto è Pila, gli ho dovuto mandare tante di quelle, non si erano mai lamentati, hanno visto tutti questi dividendi un mese, fanno guardi, noi non c'è, la compliance non c'è abituata, devi mandargli, non mi dà delay perché parliamo inglese con questo qua, gli ho dovuto mandare video di Riccione, l'accesso a Catan, cioè dovevamo proprio vedere, ah ok abbiamo capito, perché si troverebbero meglio che un altro modello, ok? Quindi bisogna comprendere quello che si sta facendo, viviamo adesso un momento in cui ci sono delle enormi opportunità, però sta aumentando anche la competizione, questa cosa qua ripeto, io non è che la potevo, ah grande Luca Ciraolo che oggi ha venduto un bundle con Babuini, abbiamo già, ah infomarketing per Babuini, l'unico corso che dopo meno di 24 ore aveva una testimonianza e dopo due giorni hanno già fatto soldi con Babuini, quindi eviterei di far domande anche con i venditori, ah ma secondo me prendete il corso, fidate, eh sta motosegara è un peccoglione, non so, andiamo di là, andiamo di là adesso, visto, visto lo screenshot, grande, grande, già tanto tre, no, quattro no, abbiamo una policy aziendale ragazzi, quattro rate non le facciamo nessuno, facciamo a volte tre rate per i PAC e per i percorsi privati, ma il motivo è semplice, innanzitutto rovina l'economia dell'azienda e noi non facciamo niente che rovina l'economia dell'azienda, perché finché l'azienda è prospera, è ricca eccetera, tutto va bene, se l'azienda smette di essere prospera, ricca, ha problemi di soldi, la cosa viene riflessa, viene riflessa negativamente su ciò che facciamo, quindi non lo facciamo per politica aziendale, è il motivo per cui non facciamo troppe rate, è il motivo per cui non faremo più eventi, perché il, questo è anche un aspetto psicologico, no, che vi insegno, il fatto di avere una parte economica che non va bene, ha un effetto sulla vostra psicologia, su come atraete i clienti, su come comunicate, sui prezzi, ok, e quindi non va bene, peraltro sono criticità spiegate in papo e ne, ma comunque me le anticipo, alcune sono per esempio il fatto di qual è il progetto, ora in un corso digitale tu lo puoi spezzettare, ma se te ne comprano abbastanza spezzettati e tu sostieni il costo di acquisizione, ma te li pagano tra 5 mesi, sei fuori, ok, c'è anche chi dà la commissione al venditore sul nord e non sul cash, anche tu puoi avere una commissione al venditore che supera il costo del traffico e super, cioè, grande, grande, quindi tu davvero, ecco, in infomarketing per Babuini, infomarketing per Babuini, fate ragazzi il, filmatemi mentre lo dico, così avete le prove, io rivelo delle robe che non sono mai state rivelate, ve lo ripeto, così almeno ve la potete sentire galla, vi rivelo delle robe che non sono mai state rivelate, perché il background dei business di informazioni, soprattutto al mio livello, non sono narrati là fuori, ok, io parlo del mio evento, parlo degli workshops, per esempio io descrivo le criticità e come fare workshops, quindi se voi fate eventi piccoli, il corso per voi, per dire, ok, viene dall'esperienza multi multi multimilionaria di molti studenti e la mia in diverse lingue, diversi paesi, diversissime nicchie, big è possibile pagare lì? Puoi pagare con carta, paypal e bonifico? Corso a rate? Allora, probabilmente un paio di rate ve le fanno anche ragazzi, però dovete parlare col venditore, perché l'opzione non c'è, è a discrezione del venditore, chiama, davvero, non vergognatevi, 800-303-666, è gratuito, e dite, ciao, ascolta, è la Big Look International, non è un centralino a casa, siamo noi, ok? Quindi vi risponde qualcuno di gentilissimo, e dice, guarda, io sto vedendo la diretta del Big, ma ho visto sto corso, come funziona? Eh ve lo spiegano, poi magari non fa per voi, eh? Cioè, se voi avete i pozzi di petrolio, ma fa per me? E per carità è un corso interessante, cioè, come io guardo i corsi di teologia, ma non sono un teologo, mi riguardo, perché mi piacciono, ma nella mia vita possono non avere attinenza, non lo guarda per curiosità, magari. Spingendo a un paio di amici che hanno davvero bisogno di babuinizzarsi, ma sono sicuro al 99, l'altro vedo al 50, perché gli interessa il corso, ma siamo allo scoglio psicologico del prossimo corso da un capo acquistato. Grande, grande Alessandra, se avete domande, davvero, il numero è fatto apposta, e poi venite anche richiamati, eh? Potete, anche se andate sulla sales page, infomarketing per babuini, cioè a call page, potete chiedere di essere richiamati, quindi un mio venditore telefonico d'assalto vi chiama e vi spiega. Tranquilli, massima educazione, trasparenza, hanno tutta una serie di direttive nel non vendere a chi non è in target, potete verificarlo voi stessi. fare un evento virtuale come il Wealth Attraction che ha fatto Dan ieri, l'altro ieri. Allora, sì, è diverso, cioè dipende da che punto l'approccio. In un'ottica di margini, ragazzi, cioè è digitale. In un'ottica di fare un evento, per esempio un mastermind digitale non rende, perché il mastermind ha bisogno della prossimità, no? Adesso, quando riesco a tornare in Italia, vediamo di organizzare il mio mastermind di lucro suburbano, di cui non mi sono dimenticato, ma non si può uscire da Dubai, non si può ancora viaggiare molto, ecco, c'è bisogno del essere lì, parlare, scambiarsi il numero, bere un caffè e essere tra di noi, ok? Mi tradurre quello sulla fallaccio, forse dovrei imparare io l'inglese. Eh, sulle distorsioni cognitive. Vabbè, ma a Riccione, scusa, non c'eri? Qual è figo? Da quando c'è stato Riccione ci sono un sacco di persone che fanno, giusto però, divulgano, mi piace, mi piace, mi piace. Perciò, ragazzi, done for you, tutto ciò che è done for you, il corso va benissimo. Davvero vi cambierà completamente tutto l'approccio che avete al business, vi cambierà il conto in bank se agite. Se poi comprate il corso, lo guardate, non fate niente, avete goduto nel ricevere queste informazioni, ma non farà la differenza perché non applicate, la differenza la fa poi quando applicate. Però, ok, quindi oggi siamo occupati del done for you, domani spiego e comunque vi anticipo già, per esempio i network hanno dei problemi con questo posizionamento che sono incredibili, perché loro fanno parte di un'azienda che è una, ma loro credono di doversi tutti posizionare differenti. Immaginatevi il pandemonio che sta crescendo e poi, chiaramente, ci sono i problemi. Consiglio Babuini a tutti. Un paio di cose indicate sono le stesse che ho attuato a fine dicembre e sono passato da vendere niente a 10k a gennaio. Chissà quando avrò applicato tutto il resto. Grande. Sì, Marco. Ottimo. Ottimo. È una cosa statistica. Chi ha preso questo corso farà il culo agli altri, perché agli altri gli manca un modello matematico che, ripeto, due anni e mezzo fa poteva non esserci. Ragazzi, due anni e mezzo fa andava bene vendere i corsi singoli a 1000 euro. Adesso no. E se ancora li state vendendo, sappiate che tra poco passa. E passerà dopo la promozione di infomarketing per Babuini. Ah, io tanto. Poi vi spariscono due cose. Ma che cazzo devo fare? E poi verrete in consulenza a 3000 euro, disturbandomi per un'ora, quando a 1200 potevate avere il mio corso, più il corso di Dan, più tutti i contratti, più dei B, più Franzisi. Non ha senso. Ah, è riconvocato per il Covid. Stai collezionando cubi di rubi? No, in realtà sì, ne ho comprati altri, ne ho comprati altri due 3x3 che mi piacciono, Speedcube. E poi ho preso un 6x6 e un 7x7. Ormai il 5, è anche venuta via una faccia, questo è bianco. No, questo è verde. Sorry. È facile. Lo chiudo in un quarto, 20 minuti, diciamo. Bisogna fare il cubi di Rubik. Chiarissimo, se infatti intendevo proprio un evento virtuale, puoi vendere in digitale e non di mastermind. No, beh, ma va bene, puoi fare un webinar, puoi fare tante cose. Non è sbagliato. Il fatto è che certe cose che adesso dovranno essere, cioè mi spiego, alcune persone adesso tenteranno di riconvertire quello che fanno. Ma invece, questo è anche un po' una cosa di babbuini, per esempio, cioè lo dovete proprio modificare. Ti faccio un esempio, un evento da 3.000 persone o 5.000 persone, 10.000 persone, immaginate un evento di network, fatto online, andrebbe proprio modificato nei parametri. Dici, beh, 10.000 lì, 10.000 da remoto. No, è diverso. Perché qual era lo scopo di quell'evento con 10.000 fisici? Dovresti andare a replicarlo digitalmente. È un po' difficile spiegarlo. vediamo, vediamo se andiamo di là. I tuoi clienti nell'ortofrutta troveranno modo di applicare qualcosa del corso? Assolutamente sì. Se sei nell'ortofrutta prendi anche online marketing per Mente Catti e mi ringrazierai. Big presi il cubo e lo chiudo in 0, 58, influence marketing. Si sente in che dico? Dove cazzo è questo qua? Cioè, si sente in tutta la casa? Tieni a capire dove cazzo è il giardinile. Tuo clienti, a proposito di teologia, l'altro giorno è accennato un certo William Craig. Interessante, devo dire, parlare del filosofo Feuerbach. Sì. Ok, altre domande su infomarketing per Babuini, Danfo. Mamma mia che bella casa che ho, me lo dico da solo. Ma dove cazzo è questo qui? Ciao amore, dimmi. Di qua, sto facendo un live. Eh, sto sentendo, devo vedere se mi prenderà tutta sera. Eh, sì. Dalle 4 alle 5. Ma dove sono? Di fianco al mio studio. Ah, di fianco al tuo studio? Sì. È infomarketing per Babuini.com. Ufficio, metti il link, per favore. Allora, vorrei prepararmi? Beh, bene. Qui ho scattato l'acqua. Eccolo lì, eccolo lì, giardini. Mamma mia, se io ti risassi. Guardate, guardalo lì, il fedifrago. Guardate, abbiamo comprato l'esdraio. Vedete? Metteremo la piscina above the ground quando finiscono. Ah, dovrebbero arrivare gli altri accessori a breve. Tutto a nolo, signori. E' utilizzabile anche per una campagna di crowdfunding. Sì. Domande? Dai che adesso poi noi dobbiamo andare, ci abbiamo un aperitivo. Questo tavolo assolutamente padronale. Vediamo se mi metto qui. Eccoci qua. Parla anche di come manipolare e comportarsi in consulenza. Sì, c'è sia il mio che quello di Dan. Non vi dimenticate che c'è dentro il corso di Duncan, di Hi-Fi Coaching and Consulting Bootcamp, che è un corso che mi ha cambiato completamente la vita. E ce l'avete sia in inglese sia in italiano. E dà un valore di mercato singolo di 3.000 dollari. Ma non perché ve lo sto dicendo io. Se andate sul sito, che molti di voi sono abituati a trattare con persone che vi danno i bonus fasulli. belli, non sto sindacati. Ah, peraltro parlo di tutta la questione dei bonus, di tutto parlo in infomarketing per Bapuini. Ok? Quindi vale veramente così. E voi per la metà, a volte lo mettono a 2.000, quindi ho 2.000 o 3.000, e per la metà o per un terzo avete il triplo a livello di contenuto, e più i contratti e più il resto. Sì, l'intro del webinar faceva molto super... Eh, quello è l'effetto. Per le strategy call dovrei considerare un buon... Quale dovrei considerare un buon tasso di chiusura? È quello che ti porta a ottimi margini. Potrebbe essere... Io ne ho visti i tassi di... Cioè, c'è chi ha l'80%. È come gli eventi. Dipende. Cioè, se tu puoi andare a un evento da 1.000 persone e convertire il 5% della sala che ti compra un pacchetto da 30k e l'evento è costato poco, perché va bene, oppure tu puoi convertire il 20% della sala e sei in perdita. Questo è un po' anche il senso di Bapuini, se hai visto. Adesso bisogna cominciare a pensare strategicamente. Che, ripeto, non è un termine che va usato alla cazzo nel di dietro. Va usato perché è così. E più persone prendono sto corso, più si risolvono i danni di questa industria. Perciò, se avete delle lamentele, prendete Bapuini. Oh, ma si chiama Bapuini! Sì, Bapuini! Perché il potente Bapuino massacrerà la gazzellina. Quando la gazzella è lì che si ciba, si sente anche abbastanza figa. Dice, beh, c'è la gazzella, eccetera. Ma va, arriva un Bapuino e se la mangia. Non è che la gazzella lo sapeva prima di essere mangiata. Cioè, il concetto è quello. Cioè, aspetta che adesso arriva un Bapuino che mi mangia. No. Era lì tutto, tutto. Poi arriva l'incazzato Bapuino, prende, sbrana. Se si applica BTA correttamente, avete scremato bene il pubblico, si può convertire tantissimo in chiamate. I primi dieci li ho convertiti tutti da 1K a 1,5K. Certo. Noi su certi lead, per esempio, abbiamo praticamente il 100% di chiusura. E poi dipende, cioè, se tu... È come l'open rate. È come se tu mi dicessi, qual è un open rate decente? Ragazzi, dipende. Se io mando un'email, a tutti i miei studenti che con noi hanno speso dai 15.000 euro in su, ho un tasso di apertura del 100%. Perché se gli arriva un'email dal Big Luke all'app, visto che non le mandiamo neanche tante. Nel lancio le mandiamo una al giorno, ma poi passiamo dei mesi senza mandare delle email. Pure a Weber, certo. Ma perché non le mandate più spesso? Non mi preoccupare. No, ma se no si dimenticano di voi. Sì, sì, sì. Perché loro, per esempio, a volte, nel senso dell'umorismo. E quando magari poi fai un broadcast, più la lista si allarga di solito, più va giù il tasso di apertura, se hai il 20%, può essere tanto. Esatto. Il leone e tutti gli altri predatori si sono estinti, sono rimasti solo i babbuini. Domanda, ma chi non ha un business e tantomeno esperienza nell'infomarketing, che corso deve scegliere? Soprattutto sono spiegati anche dei tecnicismi. Many thanks. Scegli infomarketing per babbuini, visto che è in lancio ed è e si applica a te. C'è una grossa componente tecnica, tutte le piattaforme sono spiegate. Anche se adesso, appunto, non hai esperienza di infomarketing, la impari dal corso. Non abitiamo alle aziende e non rispondono a mail di proposta come fare. Come fare? Disperarsi? Ho VTA ma le aziende non rispondono a mail di proposta come fare. Magari non sono interessanti. Magari non sono scritte bene. Magari sono le aziende sbagliate. Magari semplicemente le hai inviate tre e ci sei rimasto male che non ti hanno risposto. Manda un video. Stai facendo una video candidatura? Perché sai, un venditore deve anche farmi vedere che è un tizio o una tizia tosta. C'è anche a livello di presentazione. Video testimonial, le video presentazioni funzionano molto bene. Perciò ragazzi, in conclusione, se fate Done4U, oltre che a corsi, consulenza, il corso è assolutamente per voi, cambierà completamente il vostro approccio, il vostro conto in banca. Soprattutto per chi già sta guadagnando benino, cioè non fate i pirlottoli. Se io vi ho portato da 0 a 6K, da 0 a 10K, adesso con altri 1.200 potete andare potenzialmente da 10 a 30K. Non è una promessa ragazzi, anche lì non cadiamo in discorsi, secondo me, bambineschi. Ma se i soldi sono per il corso, se so prenderlo, se poi rimango a secco non posso applicare ciò che insegni, Luca, no, se devi rimanere a secco non prendere il corso, non ho così smania di vendertelo. Se prendi il corso e poi questa cosa ti motiva a fare più soldi, puoi fare dei turni, dei lavori in più, eccetera, o sei fanatico puoi anche farlo. Secondo me, un piccolo cuscinetto, tienitelo, anche se all'inizio ammetto che io stesso andavo all-in, tra virgolette, però no, cioè non ti consiglio di avere zero. Non è una cosa che consiglio, assolutamente no. Vi dico, ho bisogno di capire se nel corso è spiegato come dare credibilità senza avere testimonianze per i clienti o altro, visto che c'è una lezione dedicata a questo, Gabriele. Registra quello che sto dicendo, se non la trovi mi denunci. Eh, cazzo. È davvero, è tutto, è un corso fatto apposta per voi, cioè, non facessi moltiplici milioni all'anno con le informazioni e non avessi i leader di mercato di tutte le nicchie delle informazioni che studiano da me, molti dei quali mi fanno grazie di testimonio, alcuni degli altri no, eh, Brighelle che non si... Poi Riccione erano lì, col cappè in mano, qui anche tu? Sì, ma passavo di... Come fai a passare da Ricciardo? Che cazzo? Beh, passavo di qui, 3.000 euro a persona passavi di lì, ma io dico, un minimo. No? Voi sapete quanti dei miei haters studiano da me? Voi sapete che io ho degli haters che vengono in consulenza privata da me? E poi che si rimettono a pagliere e io gli dico come fare l'hater? Non è uno scherzo. Cioè, ci sono persone che tentano di posizionarsi per differenza da me che vengono in consulenza, poi non fanno un cazzo di quello che gli dico, questo è un altro discorso. Vabbè, ma non ti c'è? Così. Sto età è la forza del babuino. Mamma mia, adesso devo andare in palestra bambuino. Bambuino. Ma che dici? Non ci credo. Non ci credo. Tutto falso. Tanto le prove non te le potrò mai far vedere come di alcuni che studiano da me. No, secondo me qualcuno uscirà. secondo me li conosci vero. Chi è che non conosco? Ho provato con il video breve ma racconto la mia situazione, la fame di cambiare, la mia condizione. Eh, non so, non l'ho visto. Ma sì, è l'Italia, ragazzi. È l'Italia. Anche chi mi copia viene in consulenza da me. Ci mettiamo anche d'accordo e diciamo vabbè, vuoi copiammi? Che cazzo me ne fremo? Alcuni sono noti. Cioè, per dire, va bene. Se c'è un minimo di strategia, cioè, ripeto, la parola dipende. Picchiate il corso. Info marketing per babbuini. Eh, ma ha detto babbuini e mentecati e babbuini. Mamma mia, sono proprio dei nomi poco delicati. C'è da dire, no? Perché sì, sì, eh, eh, lo so, lo so, è finita. Eh, no, ma perché io, sì, 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 capisco, però basta. Adesso cominciamo a fare un po' di grano. Pensa quanto è profonda la tana del bianconiglio. A me fanno ridere quelli che studiavano da te e poi si mettono a vendere i loro percorsi e dici, no, ma no, ma non, non, io non, è giusto, cioè se tu hai delle cose da insegnare, io sono per il fatto che vendere, io non sono d'accordo col vendere merda, non sono d'accordo con il truffare, non sono d'accordo per fare delle promesse che non vengono mantenute, ma non c'è assolutamente niente di male, no, lo vedo tra un'ora, no, perché lui vive sulla palma e non c'è niente di male a vendere dei percorsi anche a alto prezzo, dipende cosa ti danno, voglio dire, dipende che lavoro c'è dietro, anche perché ragazzi, questa è una cosa non detta, dovrei fare un video su questo, cioè, il vendere informazioni in modo serio, cioè dove c'è una ricerca, dove ci sono dei risultati, nel mio caso, test infiniti, milioni di dollari spesi, un sacco di clienti, di feedback, di numeri, piattaforma proprietaria, un supporto 24 ore su 24, una partnership internazionale con la NoBS, cioè, c'è del lavoro dietro, ok, un programmatore che lavora full time, nove venditori, un CEO, un'impalcatura aziendale, degli investimenti di letteralmente ragazzi, milioni di dollari, cioè, il mio evento di Riccione, non ci credete se vi dico quanto mi è costato, decine di migliaia di ore di ascolto di certe cose per me, test, non test, cioè, c'è del lavoro per poi divulgare, insegnare, fare cose diverse, perciò, chi lavora seriamente e vende non commette niente, se un percorso è di 10k, io non ho nessun problema, se il percorso è di valore e la gente te lo paga, è giusto venderlo a 10k, perché anche io dei percorsi costano ben oltre 10k. Senti, per partire dopo aver preso il corso, quanto costa investire il minimo su me stesso per iniziare più o meno dopo aver studiato naturalmente? Allora, dipende poi che strada, se vuoi fare per esempio della consulenza, puoi iniziare veramente con poco, qualche centinaio di euro, anche 100 euro, perché? Perché ciò che tu dai in cambio e ciò che ti serve è poco, ti può bastare un funnel, una pagina di atterraggio, ad, questionario, strategy call, piuttosto che altri tipi di funnel, questo è quello di solito più semplice per testare il mercato, ti dico, metti 50 euro di budget, fai una pagina dove tu spieghi come puoi aiutare i clienti e metti un tasto di acquisto, chi vuole, ti serve poco. Uno dei vantaggi ragazzi è che non dovete spingere come delle bestie sulle fonti di traffico, non sottovalutate questa roba qua, perché ci sono dei modelli di business dove per scalarli dovete spendere 5.000 euro al giorno, adesso vi faccio una domanda, voi ce l'avete l'impalcatura bancaria per spendere 5.000 euro al giorno? 6, 5, vai, spendeteci, io voglio vedere con quale banca lavorate, molti di voi che magari vogliono stare nel regime dei minimi o quello che è, cosa che io chiaramente non vorrei, ma ok, quindi continuare a fare ads, perché il problema è che se non l'aggiustate il modello marketing, la price strategy, pensate di dover calcare sugli ads, ma a un certo punto non ce n'è più, quindi dovete sistemare, ragazzi, il marketing è quello che c'è dopo, bigone, ma quando nessuno ti conosce la vedo difficile, lo so che la vedi difficile, ma invece si può fare, poi ragazzi, difficile, si fanno anche le cose difficili, è chiaro che se mai iniziate, nel corso ho spiegato anche come iniziare da zero, che non è di che sei il migliore e la gente ti dà soldi, anche se devo ammettere che qualcuno facendo così riesce, ma poi dopo un mese non lo vedi più, perché c'è la delusione, la delusione del consulento, la delusione del guru, la delusione dell'esperto è questo, voi cominciate a fare qualcosa, e sono tutti col profilo personale Facebook, tutti, tu riconosci immediatamente chi non ce la fa, perché c'ha il profilo personale e non c'ha la pagina, è semplicemente un fatto di vita, ok, profilo personale, tu col profilo personale hai tanta reach, ne hai più di una pagina, soprattutto se la pagina non ce l'hai, ok, cioè se io faccio un post, Facebook lo fa vedere a meno persone magari del mio, beh nel mio caso non lo so, però il profilo privato, ok, specie se il profilo privato è pubblico, ok, hai tanta reach, comincia a scrivere, comincia a dire, io faccio, metti magari dei risultati, gli scrivi, ti interessa sapere, contattami, eccetera, comincia a chiudere qualche transazione così, ora va bene cominciare così, perché stai asciutto di costi, ti fai un po' conoscere, monetizzi un attimo e poi ti espandi, il problema è rimanere così, dopo un po', siccome non ce n'è più nel tuo profilo Facebook privato e dovresti pagare in pagina per fare degli ads, se non sai come si fa il marketing ti fermi, ed è per quello che esistono sciami di consulenti strateghi che non sanno neanche farsi la pagina e farsi un ecosistema di, che magari possono anche aiutare, non sto dicendo, non sto parlando male, però è un po' antitetico, specie poi quando vogliono fare più soldi, semplicemente un fatto, nuovo corso infomarketing per babbuini contiene più di 32-33 ore di lezione, non è corto, ecco una cosa, non è un corso digeribile in due ore, ve lo dico prima, così almeno non c'è Bayer de Morso, se vi aspettate un corso saltellante, zompettante, è un corso polposo, nutrito, ve lo dico, perché così almeno, sapete, va bene? Tra quanto andiamo amo? Ora! Ok, bom, io, ma fa aperitivo, vi perdono, vi assolvo, infomarketing per babbuini .com Ciao!